LUC! 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 Quello che voglio presentarvi oggi è il miracolo della vita, in questo caso i primi tre mesi. Primi tre mesi in cui tutto si svolge a una velocità incredibile. È una meraviglia da guardare in silenzio. LUC! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.